Sai che bestie hai disegnato? Quello non è un coiote, quello è un tapiro. Volevo fare anche la luna qui. Quello che avete scritto. È quello che mangia le formiche. È il tapiro, il formichiere. Uno che mangia le formiche è formica. Dove? Formica. E questo è un mille piedi, non è una formica. Formica. Quella è la formica. Ah, ok. Formica.